All'apparenza sembrava Tetris, un videogioco degli anni 80, ma bastava una password per cambiare schermata e inserirsi nel circuito delle videoslot illegali. Lo stratagemma, adottato in un bar di via Sospello a Torino, è stato però scoperto dalla Guardia di Finanza durante un'operazione contro il gioco d'azzardo. L'attività ha portato al sequestro di 20 slot in 10 bar, a sanzioni per oltre 800 mila euro e ad alcune denunce per violazioni delle leggi di pubblica sicurezza. Molte delle macchinette non erano collegate alla rete dei monopoli, così da consentire di eludere le imposte e diversi apparecchi non avevano le autorizzazioni necessarie. In totale sono stati controllati 20 bar e sale slot e sono state identificate un centinaio di persone.